Bonjour, oggi impariamo alcune parole per situare nello spazio, quindi per localizzare dei luoghi o delle persone. Localiser. Per situare qualcosa o qualcuno nello spazio dobbiamo usare delle preposizioni, degli avverbi o delle espressioni di luogo. Vediamone alcune insieme. Sur, su, sopra. Esempio, le chat è sur la table, il gatto è sul tavolo. Il contrario è su, sotto. Le chat è su la table, il gatto è sotto il tavolo. Quindi, sur, su. Sopra, sotto. Attenzione a su in francese, che non significa su, ma è proprio il contrario, è sotto. Devant, davanti. Le chat è devant la maison. Il gatto è davanti alla casa. Derrière, dietro. Le chat è derrière la maison. Il gatto è dietro alla casa. Devant, dentro. Devant, dentro. Or, dentro. Or, dentro. Entre. Il gatto. Il gatto. Il gatto. Il gatto. Il gatto. Il gatto. è sotto. Il gatto. Il gatto. è lontano. Il gatto. marrone. Il gatto. Il gatto. Il gatto. Il gatto. Il gatto. Jusca, fino a, aller jusqu'au feu, vada fino al semaforo, tout droit, jusqu'à. Au milieu de, in mezzo a, la fontaine est au milieu du jardin public, la fontaine est in mezzo al jardin public, autour de, intorno a, autour de la place il y a des arbres, intorno alla piazza ci sono degli alberi. Au milieu de, autour de. Au bout de, in fondo a, le restaurant è au bout de la rue, il ristorante è in fondo alla via. Au coin de, le stade è au coin de la rue. Lo stadio è all'angolo della via. Au bout de, au coin de. Attenzione a ciò che viene dopo queste preposizioni o espressioni di luogo. Sur, sous, devant, derrière, dans, entre e parmi vogliono l'articolo. Quindi dirò sur, la, table, devant, le, musée, derrière, la, poste e così via. Invece tutte le altre a côté, en face, or, a droite, a gauche, près, loin, au milieu, autour, jusqu'à, au bout, au coin vogliono la preposizione. Come si capisce dal fatto che hanno il de subito dopo. Questa preposizione può essere semplice o articolata a seconda del nome che segue e deve essere accordata in genere il numero al nome che segue. Quindi io dirò en face de la poste perché poste è un nome femminile singolare. Ma se avessi il cinema e fosse questo luogo di fronte al cinema direi en face du cinema. Come nel caso sotto a gauche du cinema. Cinema è maschile singolare quindi vuole la preposizione du. Loin de l'école, lontano dalla scuola. Quindi de l'apostrofo perché école inizia per vocale o accamuta ed è una parola singolare. A bientôt!